Eccoci su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Parliamo di cronaca, partiamo da Belpasso nel Catanese dove i carabinieri hanno tratto in arresto una 63enne che aveva rubato carburante in una ditta. L'uomo però è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Il servizio. I carabinieri della stazione di Ragalna hanno arrestato in flagranza un 63enne paternese per il reato di furto aggravato. I militari dell'arma si sono recati presso una cava di Belpasso il cui titolare aveva denunciato il furto di ingenti quantità di oli minerali e carburante di proprietà della società. Pertanto i carabinieri hanno controllato i veicoli di alcuni operai in uscita dall'azienda, tra cui una Fiat 600 condotta da un 63enne che trasportava nel bagagliaio quattro tanniche di plastica contenenti 20 litri di gasolio ciascuna che il conducente ha riferito di aver riempito presso una stazione di rifornimento di Paternò. Tuttavia i carabinieri hanno voluto approfondire la vicenda e pertanto hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza in uso all'azienda, da cui è emerso che poco prima il 63enne aveva asportato le quattro tanniche da un veicolo aziendale per caricarli nella propria macchina. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto. Controlli della Polizia di Stato a Catania, nello specifico in via Capopassero, e sono scattati arresti e denunce soprattutto per spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti i dettagli nel servizio. Il personale del commissariato Onesima ha effettuato controlli volti a contrastare l'illegalità diffusa nel quartiere di San Giovanni Galermo, con particolare attenzione alla via Capopassero. Qui un pregiudicato è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale. Allo stesso sono stati sequestrati 130 involucri di droga tra crack, cocaina e marijuana e il denaro ricavato dall'attività illecita. Nella stessa via, un altro pregiudicato, sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, che peraltro è anche risultato essere percettore del reddito di cittadinanza, è stato arrestato in flagranza per spaccio di cocaina e marijuana. Anche in questo caso è stata sequestrata la droga, così come una radiolina ricetrasmittente e del denaro contante. Un uomo di nazionalità marocchina è stato arrestato per il medesimo reato. In questo caso sono stati rinvenuti e sequestrati 12 involucri di marijuana, la somma di 300 euro e, ai fini della confisca, il ciclomotore utilizzato dallo spacciatore. Un'altra persona è stata invece indagata in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana. Anche in questo caso è stata trovata e sequestrata una radiolina, in quel momento attiva, che serviva a captare le conversazioni radio delle forze dell'ordine. Sempre nella via Capopassero, un pluri pregiudicato è stato sottoposto alla misura di prevenzione e della sorveglianza speciale. Inoltre, sei persone sono state indagate in stato di libertà per vari reati, quali danneggiamento doloso, furto aggravato, minaccia, furto di energia elettrica, guida senza patente, immigrazione clandestina e atti persecutori. Restiamo a Catania e parliamo ancora di spaccio di sostanze stupefacenti e nello specifico di un pusher che nascondeva la cocaina negli slip. È stato però beccato e ovviamente tratto in arresto dai carabinieri. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontana Rossa hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sotto la lente di ingrandimento dei militari è finita una palazzina di via Cronato, meta di numerosi giovani che vi facevano ingresso per poi uscire fugacemente nel giro di poco tempo. Tale dettaglio ha ovviamente lasciato presupporre ai carabinieri la sussistenza di un fenomeno di spaccio di droga. Pertanto i militari dell'arma hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi della palazzina durante il quale hanno notato un uomo ed una donna giungere a bordo di uno scooter. Come già notato in precedenza, l'uomo è entrato e subito fuoriuscito, si è allontanato con la donna sullo scooter per poi ritornare poco dopo sul posto dove stavolta hanno trovato i carabinieri ad attenzione. Il giovane ha manifestato evidenti segni di nervosismo, tant'è vero che a seguito di una perquisizione personale è stato trovato in possesso all'interno degli slip di un involucro contenente 50 grammi di cocaina in pietra, sufficienti per la suddivisione in oltre 300 singole dosi che avrebbero garantito agli spacciatori un introito di 3.000 euro circa. I carabinieri hanno posto il 25enne a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato il suo arresto applicandoli inoltre alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ci spostiamo virtualmente nel Trapanese, parliamo dei controlli effettuati sul territorio dai carabinieri a Castelvetrano, controlli che hanno portato alla denuncia di 5 persone. Vediamo perché. I carabinieri della compagnia di Castelvetrano hanno eseguito una serie di controlli incentrati sul rispetto del codice della strada. All'esito degli accertamenti sono stati denunciati due giovani di 24 e 25 anni di Mazzara del Vallo e Castelvetrano, entrambi gravati da precedenti di polizia, sorpresi alla guida delle proprie autovetture con un tasso alcolemico superiore di gran lunga ai limiti consentiti dalla legge. Un altro Castelvetranese, residente a Partanna, di 36 anni, è stato invece denunciato per essersi messo alla guida della sua auto senza patente, poiché è ritirata con reiterazione nel bienio. L'auto è stata posta sotto sequestro in quanto sprovvista di copertura assicurativa. Nel medesimo contesto operativo sono stati deferiti all'autorità giudiziaria due soggetti di nazionalità straniera, di cui uno irregolare sul territorio nazionale, i quali, all'esito di una minuziosa attività investigativa, sono ritenuti presunti responsabili del furto in concorso, con altro connazionale arrestato nel giugno scorso, di un ciclo motore e della successiva ricettazione dello stesso. All'epoca dei fatti, il mezzo era stato restituito alla vittima senza la targa, per la quale era stata chiesta la cifra di 100 euro per la consegna. A Trapani è invece scattato un provvedimento restrittivo per una 24enne. Le accuse sono gravi, rapina aggravata e lesioni personali. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della stazione di Trapani hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Trapani, emessa dal GIP del Tribunale del Capoluogo su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di un trapanese classe 98 per i reati di rapina aggravata e lesioni personali in concorso. Il giovane, un soggetto già noto agli operanti per i numerosi precedenti di polizia a suo carico, solo pochi giorni fa era stato denunciato per i reati di guida senza patente e sotto l'uso di sostanze stupefacenti. L'odierno provvedimento scaturisce dalla minuziosa indagine eseguita dai carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Trapani che ha fatto emergere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. In particolare, il 24enne avrebbe adescato un suo coetaneo nel cuore della notte in un luogo isolato prospettandogli un appuntamento tramite un'app di incontri per soli uomini per poi intimarli di seguirlo fino ad un'autovettura a bordo della quale le attendeva il suo complice. A questo punto, dopo averlo colpito con violenza al volto, lo avrebbe costretto a consegnare il portafogli e il cellulare e a salire sull'abitacolo per raggiungere un ATM per ritirare altro denaro contante. Approfittando di un momento di distrazione dei due malviventi, la vittima sarebbe riuscita a scendere dal veicolo e a richiedere poco dopo l'intervento dei militari dell'arma mettendo in fuga i due rapinatori. Le risultanze investigative del reparto operante sono state pienamente condivise dalla locale Procura della Repubblica che ha richiesto l'emissione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Trapani con permanenza domiciliare dalle 20 alle 6 del mattino seguente. Notizia di cronaca dal siracusano. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto su ordine dell'autorità giudiziaria un pregiudicato di 47 anni a Floridia, il quale da settembre a novembre 2019 si era reso responsabile di reati in materia di stupefacenti. L'uomo infatti deteneva e spacciava droga presso la sua abitazione ed effettuava alcuni viaggi a Catania per l'approvvigionamento. L'arrestato permarrà ai domiciliari presso la sua abitazione così come disposto dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. Parliamo di Covid, andiamo a vedere il report settimanale della Fondazione Gimbe, in questo caso i dati ovviamente che riguardano la Sicilia e ci dicono che nell'isola i nuovi contagi sono in aumento. Vediamo il servizio. Nella settimana dal 18 al 24 novembre si registra in Sicilia un peggioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti e si evidenzia un aumento dei nuovi casi di Covid rispetto alla settimana precedente, più 4,4%. Sotto la media nazionale i posti letto in area medica, 11%, mentre sono sopra la media nazionale i posti letto in terapia intensiva, 3,3%, occupati da pazienti Covid. Lo rende noto il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con l'analisi sull'andamento dell'epidemia e delle vaccinazioni. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 13,2%, a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid da meno di 180 giorni, pari all'1,1%. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari invece al 19,3%, a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 2,2%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 12,1%. La popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 27,1%, a cui aggiungere un ulteriore 3% solo con prima dose. Chiusa la parentesi Covid, parliamo ancora di cronaca, ci spostiamo virtualmente ad Agrigento, dove una commerciante è stata vittima di una truffa. Si tratta di un 68enne il quale senza chiedere conferma a un suo fornitore dopo aver ricevuto un messaggio con un nuovo codice IBAN e credendo che l'azienda avesse semplicemente cambiato le coordinate bancarie, ha effettuato un bonifico di ben 16.000 euro. L'IBAN però non era quello dell'azienda fornitrice a cui doveva pagare la merce che gli era stata consegnata. Infatti, dopo pochi giorni, il commerciante ha ricevuto la telefonata proprio del fornitore, il quale gli chiedeva delle spiegazioni in merito al ritardo del pagamento, pagamento che in realtà il commerciante aveva effettuato, ma come detto al falso IBAN. Così la 68enne Agrigentino ha scoperto di essere stato truffato e si è quindi presentato dalla polizia per sporgere una denuncia, ovviamente a carico di ignoti, con gli agenti della polizia che hanno subito avviato le indagini per cercare di risalire al responsabile. Restiamo nell'Agrigentino, ci spostiamo però virtualmente a Porto Empedocle, dove i carabinieri della locale tenenza, assieme al personale sanitario dell'ASP di Agrigento, hanno sequestrato 200 kg di prodotti ittici senza alcuna tracciabilità, 10 dei quali in pessimo stato di conservazione. Il sequestro è stato effettuato all'interno di due magazzini abusivi a Porto Empedocle. Un commerciante di 60 anni è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica e gli sono state inoltre combinate sanzioni amministrative per un ammontare di 6.500 euro. È un grave fatto invece avvenuto a Palermo, dove un bimbo di appena 13 mesi è stato soccorso all'ospedale dei bambini, come detto nel capoluogo siciliano, dopo chi aveva ingerito della cannabis. I medici in servizio al pronto soccorso, nel corso degli accertamenti e di un'attac, hanno riscontrato pure una frattura cranica. I sanitari a quel punto hanno contattato le forze dell'ordine e la Procura per i minorenni, mentre sono state effettuate delle perquisizioni in casa dei genitori del piccolo e sono ancora in corso le indagini. Come accade sempre in questi casi, il bambino è stato affidato al direttore sanitario dell'ospedale. Dall'inizio dell'anno si tratta del diciottesimo caso di bimbi arrivati al pronto soccorso con un'overdose da droga. Ci fermiamo qui, chiudiamo questo appuntamento con Spazio Notizia, ma ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501